Non so che tutto di noi, ma c'erano le piccole che mi sono, ecco, le piccole che mi sono, ma che famiglie che sono? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le ricordi di vita, le cose che ha fatto l'uomo, le cose che ha fatto Arezzo. Arezzo è la educatore, l'insegnante di educazione fisica, l'architettore delle stagioni di stile, le cose che ha fatto l'uomo, le cose che ha fatto l'uomo, le cose che ha fatto l'uomo. Grazie a tutti.